Applausi Ci troviamo alla 25esima edizione del premio Gianni di Venanzo, uno dei pochi premi che resiste nella nostra città, un premio culturale che dura da 25 anni e quest'anno abbiamo pensato di dedicarlo a Degno Morricone, scomparso di recente, con la banda di Montori Alvomano. Noi siamo nella cappella di Acenda al Sanduario, c'è un bellissimo dipinto di Crivelli in fondo. Il 25ennale, questo concerto è dedicato a Liliano e Marco Pannelli che hanno sempre amato la nostra città, sia Liliana che è venuta qua per tante volte e Marco che si è fatto seppellire anche nel nostro cimitero, uno dei politici più grandi che abbiamo avuto e che ha lottato sempre per gli ultimi e quest'anno il premio intitolato a Marco Pannello verrà dalla tappa di Alex Zanotelli. Quindi questa è la prima iniziativa di questo 25esimo premio. Se avete piacere potete seguire anche tutte le altre iniziative che saranno fatte dentro la nostra città. Grazie mille.